Pronto? Chi parla? Dio! Ma tu guarda se la gente è a quest'ora della scena! Come ti pensi? Come ti pensi? Di colpo, alza un braccio alle campane! Ho parlato con Dio! Ci sarà il secondo diluvio universale! In un momento come questo la gente del mio paese mi lascia da subito! Io sto dove stai tu! Tu costruirai un'arca! Un'arca? 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 Quelle nane è danaro! Te voglio sposar! Parapapero, papero, papà! Questi sono i miei amici! È illogico! È umano! Lamentina i sogni non sono peccati! Testone, aggiungi un po' sta tavola Non vedi che sto arrivando?